Ringrazio naturalmente anche a nome dell'amico e collega Sandro Mainardi per la vostra presenza a queste giornate di studi, ringrazio naturalmente il professor Carinci che è il promotore da sempre di questa iniziativa, solo per riferirvi che il professor Caglianello e il professor forse ci raggiungeranno nel corso della giornata, intanto direi di iniziare i lavori e quindi naturalmente cedo la parola alla nostra Presidente, alla professoressa Brollo, pregando poi nello svolgimento dei lavori di contenersi entro i limiti previsti perché abbiamo un carnet di interventi molto fitti e in particolare naturalmente ai moderatori di moderare effettivamente i tempi perché dobbiamo naturalmente rimanere nell'ambito del programma che ci siamo dati. Grazie ancora e la parola alla Presidente.